Benvenuti in Citizen Fondato nel lontano 1918, Citizen è uno dei marchi di orologi più famosi e rispettati al mondo, conosciuto per la sua precisione, la tecnologia all'avanguardia e il design moderno. Il marchio giapponese ha raggiunto una grande notorietà grazie alla sua capacità di coniugare l'eccellenza tecnologica con la cura dei dettagli estetici e funzionali. Uno dei punti di forza di Citizen è la sua tecnologia EcoDrive, un sistema che utilizza l'energia solare per alimentare gli orologi, eliminando la necessità di sostituire le batterie. Grazie a questo sistema, gli orologi Citizen sono estremamente affidabili e non richiedono manutenzione. Citizen è stato uno dei primi marchi ad adottare la tecnologia solare per alimentare i suoi orologi, e negli anni, ha sviluppato diverse varianti del sistema EcoDrive, tra cui l'uso di celle fotovoltaiche ad alta efficienza. Questa tecnologia consente agli orologi Citizen di funzionare anche in condizioni di scarsa luminosità, come al chiuso o in giorni nuvolosi. Oltre alla tecnologia EcoDrive, Citizen ha sviluppato altre tecnologie avanzate per garantire la massima precisione dei suoi orologi. Uno di questi sistemi è il Radio Controlled, un sistema di regolazione automatica dell'ora che utilizza i segnali radio delle stazioni atomiche per sincronizzare l'orologio con l'ora esatta. Citizen offre una vasta gamma di stili di orologi, tra cui orologi da polso per uomo e donna, orologi sportivi, orologi subacquei, orologi da pilota e orologi da dress watch. Tutti gli orologi Citizen presentano un design moderno ed elegante, con una forte attenzione ai dettagli e all'usabilità. Gli orologi da polso Citizen sono disponibili in diverse forme e dimensioni, con cassa in acciaio inossidabile, oro rosa o titanio. Gli orologi sportivi sono resistenti all'acqua fino a 200 metri di profondità e disponibili in diverse varianti di colore. Gli orologi subacquei, invece, sono dotati di un sistema di immersione automatico e sono disponibili in diversi modelli, tra cui il popolare Promaster Aqualand. Citizen ha anche una collezione di orologi da pilota, caratterizzati da un design ispirato ai cockpit degli aerei. Questi orologi sono dotati di funzionalità avanzate, come il cronografo, il timer del conto alla rovescia e il calendario perpetuo. Infine, gli orologi da dress watch di Citizen sono l'ideale per le occasioni formali, grazie al loro design elegante e alla loro qualità costruttiva. Grazie. 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 Grazie.